Però non si capisce mai bene che cosa fa esattamente un dirigente sportivo, quindi di che si tratta? Cosa fa concretamente nelle sue giornate? Un dirigente sportivo professionistico, se è un direttore generale, assomiglia a un direttore generale di una qualsiasi azienda, ovviamente specializzato in quel settore. Quindi nel tuo caso tu ti occupavi più di numeri che non di sport, più di far tornare conti? Diciamo che un CEO o comunque un direttore generale di un'azienda si occupa delle linee guida strategiche, si occupa ovviamente anche delle verifiche di bilancio, si occupa della scelta delle varie persone che si devono occupare delle specifiche. Quindi la scelta dell'allenatore, la scelta dello staff medico, la scelta dell'ufficio marketing, a cui detta le linee guida rispetto a quello che sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Che nel caso dello sport ovviamente vincere le partite, se si può, se si riesce.